allora questo video ti vado a parlare praticamente questo in questo periodo io ho fatto molte prove sia con i sogni con varie vitamine soprattutto e altre cose insomma arrivato un po a parlare degli sviluppi che sto avendo che sono abbastanza interessanti praticamente ho provato varie cose la galea zagatechichi ecco qua ma questa se te devo dire ha funzionato non è che ci sono tutti questi scontri però poi non è amara però adesso da riprovare perché comunque cioè non è che fanno miracoli queste cose vanno vanno di pari passo comunque con una crescita personale con varie varie insomma situazioni inerenti appunto a al sogno e quindi sto usando l'inositolo colina e un inusitolo prima la gpcs l'ho sostituito con questo prodotto che lo sto trovando molto buono è una marca tedesca warnke lo so stavendo riscontri positivi che lo sto usando insieme a questo qua benexol benexol che è praticamente un integratore di vitamine b1 b6 e b12 che questa la prendo prima di andare a dormire questa durante la notte adesso poi quando finiranno queste quante sono stanno parecchie ancora poi vado a provare voglio provare anche la b5 ci mette metterci in mezzo la b5 vedi sono così praticamente vabbè io mangio anche tante nuoci arachidi prima di andare a dormire quello devo dire che sta dando ottimi risultati la melatonina la melatonina anche da da prendere in considerazione per il momento l'ho messa un po da parte però anche questa mi ha dato riscontri positivi però ti devo dire per quanto mi riguarda poi ogni persona soggettiva questa associazione sta dando risultati interessanti per la per la vividità sono sogni molto vividi quindi ottima ottimi riscontri e quindi se il video di è stato utile mettimi like iscriviti e quant'altro ciao 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 ciao